E' ovvio che non sia giusto, è ovvio anche, penso, sotto gli occhi di tutti che comunque la decisione del Parlamento di mandarlo a processo è stata una decisione politica. Io voglio solamente fare una citazione che per me spiega bene, ad esempio per uno dei capi d'accusa, come sia assurdo il capo d'accusa. Conte stesso aveva detto facciamo sbarcare queste persone dopo che è stato deciso il ricollocamento. Il ricollocamento che voglio dire che era stato trattato e deciso in altri 30 casi, non è che c'era solamente questo. E questo caso è uguale alla 18 dove si era detto no, non andare avanti a procedere. Rappimento, anche questo ovviamente è un'accusa priva di fondamento perché far rimanere delle persone per 4 giorni, mentre si controlla dove verranno ricollocate e che c'è sopra, sopra una barca italiana. Allora io direi che nel dettaglio ci penseranno i magistrati, però c'è un passaggio che mi interessa.